Con Andrea in collegamento Skype, dalla sede dell'associazione Roberto Della Vida e Sorriso, il presidente che vi saluto. Il cugino Matteo è venuto a trovarci per far girare le palle. Come fa girare le palle lui? Come le fa girare nessuno. Ecco. Ehi. Dobbiamo proporlo a Figlino e Venti, per Borgo da Favola. 18-19 agosto. Figlino di Tramonti. Artista di strada. Oggi artista di stanza. Ed ecco che si ci mette con quattro palle. Tre palle. Oggi. e adesso sono 4 ho fatto lo spettacolo personalizzato per Andrea qui scatta l'applauso gran finale bravo bravissimo stacchiamo ok ottimo via le palle via le palle piaciuto lo spettacolo amico ciao 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 ciao